Oggi per i residenti della frazione di Caminate ed in particolar modo per la famiglia Anibali si è chiuso un doloroso capitolo. Ci sono voluti cinque anni da quel tragico 26 luglio del 2014 in cui una bomba d'acqua mise in ginocchio Fano con il rio Crinaccio che esondò in più punti devastando la zona di Ponte Sasso, Tombaccia e Caminate. Qui il ponticello con poca luce sotto fece da diga con l'ammasso di tronchi che veniva giù nel torrente e ciò che fino al giorno prima era poco più che un rigagnolo si trasformò in un mostro d'acqua che terrorizzò la famiglia Anibali che ha la casa a pochi passi dalla fosso delle Caminate e tutti i residenti della zona. Oggi sotto gli occhi emozionati di chi visse quei terribili momenti taglio del nastro della nuova struttura realizzata dal comune. Sì, sì, da un bel po' che aspettavo questo evento e piano piano ci siamo riusciti. Sono stato sempre, non dico tutti i giorni in comune ma quasi per poter riuscire a ottenere qualcosa. Quel giorno se lo ricorda ancora immagino? Sì, perché quel giorno è spavento, è stato grosso un bel po' perché a vedere tutta quella roba, tutte quelle piante erano disastri. Il ponte non esisteva più, le piante l'avevano proprio chiuso. Quella del rio Crinaccio fu anche la prova del fuoco per il neosindaco di allora, eletto da poco più di un mese e la sua giunta, Massimo Seri, al suo primo mandato. Siamo interiunti sull'emergenza per cercare di risolvere nell'immediato la situazione, riportare la normalità ma ci siamo posti il problema di come risolvere in modo definitivo certe situazioni. Lo abbiamo fatto a rio Crinaccio e qua c'eravamo posti il tema che andava rifatto demolito e rifatto il ponte. Così abbiamo fatto, abbiamo cercato le risorse, abbiamo impiegato alcuni anni perché le cose complesse richiedono il loro tempo ma siamo arrivati alla soluzione. Qui abbiamo oggi un nuovo ponte, fra l'altro anche bello, fatto in modo innovativo ma è una risposta ad un bisogno, ad un'esigenza del territorio perché in quei momenti tutto l'isolato era rimasto isolato dal resto delle strade, dal resto del quartiere. Ora questa struttura che passa sopra il fosso dal costo complessivo di 236.000 euro realizzata dalla ditta Guidarelli di Pergola è in travi precompresse con soletta in cemento armato che poggia su due spalle che montano particolari sistemi ammortizzanti in gomma su cui poggia il solaio, cosiddetto galleggiante secondo le più attuali normative antisismiche.